Una giornata no, dispiace perché ci temevamo a fare a casa la partita per comunque assicurarci il primo posto nella pool. Non è andata come speravamo, però adesso pensiamo subito agli Stati Uniti a far bene l'altra. L'importante è la partita con gli Stati Uniti per trovare un quarto non così complicato come si rischierebbe altrimenti. Sì esatto, contro la partita contro gli Stati Uniti dobbiamo dare il massimo e dobbiamo partire sicuramente meglio. Abbiamo imparato oggi da questa partita che il nostro cambio di palla è importante, che dobbiamo spingere in battuta e che appena spingiamo in battuta il nostro lavoro a muro di difesa lavora molto meglio. Quindi comunque dobbiamo focalizzarsi su quello.